ciao miei capine bentornate sul mio canale la terza volta che registro questo video ce lo posso fare oggi un video recensione su un fondotinta kiko che si chiama smart questo è un fondotinta idratante è un 30 ml è un powder apertura di 12 mesi cosa dire di questo fondotinta promette idratazione poi dice che la pelle non lo sentite sulla pelle eccetera eccetera ma tanti di voi ho sentito letto sui vari social così che vi fanno uscire i bufoli fondotinta kiko diciamo che io ne ho provati alcuni e li ho sempre cestinati per il semplice fatto che non mi piaceva la resa sulla pelle ma non mi hanno mai fatto uscire i bufoli sinceramente quindi scusatemi quindi non è che non li compro perché mi fanno uscire i bufoli ma appunto perché non li trovo non sono adatti alla mia pelle sì che io ho un tipo di pelle normale con normale e sensibile ma per il resto non ho mai riscontrato nessunissimo tipo di problema fortunatamente non sono allergica a nessun per adesso facciamo corn non sono allergica a nessun tipo di ingrediente per quanto riguarda il make up quindi io l'ho già provata ad applicare adesso lo applichiamo insieme andando ad utilizzare una blender bagnata e poi dopo lo facciamo asciugare un attimo e vi dirò le mie impressioni allora la consistenza innanzitutto lo vado ad agitare perché è un fondotinta comunque cremoso ma liquido cioè non è proprio cremoso 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 ne vado ad applicare un po' sul dorso della mano non applico tanto così la mia è la colorazione 01 la warm rosa e adesso a puntini lo andiamo ad applicare sul viso ne ho messo anche poco perché vi spiego appunto l'ho già provato e quindi vi dico che ha una bassa coprinza e è stratificabile e non si vede in faccia che si stratifica come tanti fondotinta però mentre lo applico ve ne parlo però appunto non copre bene 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 i rossori e e le imperfezioni della pelle ma secondo me questo fondotinta per la sua leggerezza come si dice no perché mentre mi trucco faccio fatica anche a parlare ma è come se fosse più che altro una un info una BB cream no neanche un fondotinta che va a uniformare il colorito della pelle ma appunto non ha sta gran coprinza vedete che ne ho applicato un po' ma i rossori qui sono rimasti il colore è perfetto ma i rossori sono rimasti quindi andiamo prenderne ancora un pochino e andiamo vado a prenderlo con la punta della blender così e vado a stratificare qua sotto dove ho maggiormente rossori diciamo che con questo fondotinta ho trovato un prodotto di Kiko un fondotinta di Kiko abbastanza buono per quanto mi riguarda perché comunque è leggero non si sente sulla pelle a me appunto come vi dicevo prima non mi ha mai dato problemi fondotinta Kiko non mi hanno mai dato problemi ma gli ho cestinati per il semplice fatto che sulla mia pelle si vedevano sembravano mascheroni piuttosto che c'era sulla polverina eccetera eccetera piuttosto che brufoli non me ne ha mai dati quindi ecco questa è la coprinza ha una media coprinza scusatemi devo fare le sopracciglia non le ho ancora fatte e niente cosa dire praticamente adesso lo lascio asciugare ma vi anticipo che in teoria essendo idratante non dovrebbe andare a segnare niente invece mi va a segnare la cicatrice che ho qui questo morso di un cane mi va a segnare la cicatrice la ruga di espressione che ho qui non è una ruga è un solco praticamente qua ci passa un fiume e e e poi mi va a segnare per quanto riguarda per dire qua intorno al naso vedete qui che sarebbe anche questa una ruga di espressione anche questo un bel canale sul resto della pelle non si nota la cosa bella che è quella che sul resto della pelle non si nota non si non dà effetto polvere né niente sarebbe forse da mettere una cipria piuttosto tipo quella di neve cosmetics questa che è una cipria idratante della flat perfection questa è la fluffy matt applicare una cipria così e capire se cambia qualcosa oppure nada questa è una cipria idratante però no segna proprio perché mi sto guardando allo specchio segna proprio tutte le rughe tutte le cose ma secondo me comunque chi non ha molte rughette eccetera eccetera può essere perfetto per si è uccisa una tinta labbra quella di bella oggi è morta e praticamente secondo me potrebbe essere guardate non è male il risultato si vabbè mette in evidenza un po' le rughettine però vabbè sono rughettine di espressione questa è una cicatrice una volta che finite il trucco secondo me potrebbe essere un fondotinta da tutti i giorni quindi finalmente ho trovato un fondotinta Kiko perché comunque ci sono fondotinta anche più costosi che comunque mi mettono in evidenza le rughette le pieghette però vedete che già ho applicato la cipria di neve e già si nota un pochino meno quindi vabbè fondotinta che vi posso dire che non è male come resa sul viso io ho una pelle come vi ripeto normale sensibile lasciamo perdere il sensibile ma la grana della pelle è normale quindi per me non si separa sul naso è bello cioè non è male l'unica cosa ecco magari devo dare più idratazione alla pelle sotto è da vedere quindi ragazze io questo fondotinta lo trovo abbastanza buono per quanto riguarda appunto non mi dà polverosità sul viso lo trovo abbastanza buono quindi finalmente forse ho trovato un fondotinta Kiko che posso usare per tutti i giorni quindi io vi consiglio di provarlo allora se siete tendenti ad avere brufoli per quanto riguarda il fondotinta di Kiko non ve lo consiglio ma se non avete problemi come me usando i fondotinta Kiko e volete un effetto un po' più leggero un po' più naturale provate questo fondotinta tanto costa solo 4,90 euro non è un prezzo esorbitante quindi provatelo perché è buono diciamo che è buono sì poi con una buona cipria idratante sopra e un bella una bella idratazione sotto è è buono mi sono trovata bene quindi ragazze cosa dire niente se vi è piaciuto questo video vi sono stata utile mettete un pollice in su mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanellina così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video e di iscrivervi al mio gruppo facebook o seguirmi su instagram vi lascio giù sotto nell'info box tutti i link per venire a trovarmi sia su facebook che su instagram vi mando un grosso bacione e spero di esservi stata utile per il momento questo è tutto ciao miei cappine ah dimenticavo una cosa sono contenta di una cosa è arrivato il pacco a Elisa ho fatto il pacco quello celere veloce quindi è già arrivato lei è rimasta contenta io sono contenta e sono contenta che il pacco che la palette comunque sia arrivata a una persona di voi che comunque mi segue sul canale l'altra ragazza non si è più fatta sentire e quindi sono felicissima che sia arrivata lei che mi segue comunque sul canale perché questo è importante io ho fatto un giveaway per voi che mi seguite sempre non per persone che si iscrivono poi si cancellano solo per il giveaway e quindi sono contenta perché comunque mi segue e niente volevo solo dirvi questo vi mando un grosso bacio ciao Elisa ti saluto e ti ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao